Ciao a tutti ragazzi, a te, 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 a te! Nuovo paese, nuovo McDonald's. Siamo in... Francia! Non avevamo ancora mai fatto il video del McDonald's in Francia. Ci sono anche i giochi. Ci sono anche i giochi con i tavoli fuori. Adesso vi facciamo vedere cosa c'è di diverso. C'è tanta roba diversa da noi. Sì! E guardate che stai in mano. Allora fino in cima. E facciamo i percorsi. Adesso vediamo i menù. Ciao! Sì! Allora, le lingue. C'è anche l'italiano. Non so cos'è il resto flash, sono un buon impasto. Ecco le diverse categorie. Anche dicono anche le calorie delle cose. Vabbè, non è male, eh? B. È tutto B. Questi. Poi non lo so gli altri. Allora. Questi sono i menù che hanno solo una salsa particolare perché sono i menù normali. Qua ce n'è diversi, tipo questo greco. questo da noi non c'è. Questo da noi non c'è. Un po' di cheese. Sono uno McNuggets, non so che differenza c'è. I prezzi sono un po' più alti che da noi, eh? Però è un menù questo. Questi sono gli altri tipi di menù. La stoffa. Insalata. Peppini ha diverse scelte. Piccoli scurtini. Le patatine. Ci sono due tipi di patatine. Questo da nononcià. Questo da nononcià. Questo da nononcià. Questo da nononcià. Questo neanche. E anche questo. E anche questo. Questo da nononcià. Molto buono. Eccolo lì. Chissà che roba è. Coca Cola con la panna. Non lo so. Questi li abbiamo messi prima. I coni. Buon bevande. C'è poca roba però. Ovviamente poca roba. Buon caffè. Qui servono. Tutto nei contenitori. Di plastica. Guardate le patatine. Visto. E c'è il gioco. Come sempre. Queste da noi non ci sono. Le patate così grosse. Con il. Si. Buonissimi. Gelato. E anche questo. Non c'è più da noi. No. Era una vita che volevo mangiarlo. Insomma. E' più buono vero che da noi. Anche il gioco è diverso. Visto. Anche il gioco è diverso. Vero che da noi. Adesso da noi ci sono le figurine. Domino. Guarda. È il domino. Anche tu hai il domino. Qui dove sono messi? Nel contenitore di plastica. Apri. Ce n'è quattro come da noi. No. Da noi ce ne sono cinque. Quattro. Quattro. Quattro dappertutto. Normalissimo. Con il caprino. Più buono qui o da noi? Quattro. Qui o da noi? Sì. È il McDonald's. Buono qui. Non ho idea di cosa sia. A me fa paura solo guardarlo. Coca Cola con la panna. Sta facendo la reazione la Coca Cola sulla panna. C'è anche il gelato. C'è anche il gelato. C'è anche il gelato. C'è veramente buonissimo. Mi sa che rimarrà lì. Sì. Mi sa anche a me. Non ama un po' le piazze. Non è. È obrobrioso. Ma... Giusto perché... Per la scienza. Il secondo... Secondo parere è quello che... C'è anche il trincio quattro di questi. Immangiabile. Abbiamo capito uscendo la Coca Cola con la panna è una specialità delle Filippine. Mentre il McFlurry con i pop corn dell'Indonesia. Avevo visto dei video in cui dicevano che volevano mettere una specialità per paese che ha il McDonald's in tutti i McDonald's. Probabilmente qua iniziano prima. Perché penso che se mettono da noi la Coca Cola con la panna non ne vendono neanche mezza. E' andata a cercarvi la playlist con tutti i McDonald's che abbiamo testato in giro per l'Europa. La lista aumenta. Sì. Ciao! 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 Grazie a tutti